Ecco perché presto fare profitti con le criptovalute sarà molto più difficile. Sono stato anche a New York in queste ultime settimane, proprio per capire un pochino meglio a Wall Street, che aria tira, e di che cosa si sta parlando in questo momento. Ne stiamo sentendo di tutti i colori in questi giorni, oramai sui social, da quelli che definisco criptoimprovvisati, che fino all'altro ieri parlavano di tutt'altro, magari parlando dell'ennesimo e-commerce o di dropshipping o di quel che sia. Ad oggi tutti esperti di criptovalute e tutti a parlare di quello che sarà il futuro delle criptovalute. Da una parte è un bene in quanto il mercato e l'attenzione insomma mediatica porta interesse verso il mondo delle criptovalute, d'altro lato chiaramente la parte negativa è che porta con sé tutta una marmaglia e tutta una serie di opportunisti, dei quali farei decisamente a meno. In questo video andiamo a vedere perché da questo momento, e siamo alla resa dei conti, sarà molto più difficile andare a fare dei profitti con le criptovalute. Ma questo lo vediamo tra un attimo. Lascia prima che mi presenti, sono Antonio Ereditario e da anni aiuto le persone a comprendere come l'economia 3.0 possa permettere a chiunque di lasciarsi per sempre alle spalle il proprio lavoro stressante e tradizionale e di conquistare così l'indipendenza finanziaria. Per questo ho fondato la Crypto Power Academy, un luogo di formazione elitaria ad accesso esclusivo dove abbiamo già accompagnato oltre 750 studenti da zero a macchine genera ricchezza digitale. Sia passivamente grazie alla costruzione di un portafoglio diversificato che attivamente tradando derivati. Se credi che per te sia troppo difficile o addirittura impossibile, beh, semplicemente non conosci l'approccio semplice, diretto e pratico con il quale in prima persona ho ottenuto grandi risultati sfruttando i segreti della giungla delle monete digitali. Ed oltre ad essere un investitore digitale, sono anche uno youtuber e un content creator con un seguito che ha sfondato il muro dei 700.000 follower. Tant'è che negli ultimi anni sono stato invitato come speaker ai principali eventi crypto e blockchain italiani, come ad esempio il Blockchain Forum, il Web3 Digital Summit, il Crypto Expo Milano, o mi avrei visto su RTL 125. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Antonio Ereditario, sono il co-founder di Crypto Power Academy, che come avrei potuto sentire insomma anche dalla sigla, è la prima accademia sul mondo delle criptovalute, sulla monetizzazione del mondo con le criptovalute in Italia. se non anche in Europa. Quest'oggi siamo qua per realizzare questo video, in quanto la situazione con le criptovalute sta cambiando. E rispetto a quello che si pensava fino a qualche mese fa, effettivamente è stato totalmente sconvolto. Perché? Per quale motivo? Ci sono una serie di motivazioni che ci portano a fare questa considerazione qua. ovvero ci sono degli istituti delle banche, come ad esempio Revolut, come ad esempio Mediolanum, Banca Sella, che si sono avvicinate al mondo delle criptovalute e ad oggi stanno offrendo questa tipologia di investimenti anche ai loro investitori, ai loro correntisti e quant'altro. È chiaro che non solo le banche, ma anche altri istituti come BlackRock e Fidelity si sono avvicinati al mondo cripto. Quindi stiamo vedendo che l'interesse istituzionale delle banche in questo momento è un driver molto importante nel mondo delle criptovalute. E fino a qualche anno fa, fino alla scorsa bull run, circa quattro anni fa, 2020-2021, si parlava di regolamentazione, che fine faranno le criptovalute, perché erano un asset che non era regolamentato, erano un asset un po' un far west, diciamo. E questo era sempre stato, insomma, un grande dibattito fino a quattro anni fa. E molte di queste istituzioni consideravano le criptovalute come un qualcosa che potesse esplodere da lì a poco, come un qualcosa che sarebbe crollato. Invece ad oggi abbiamo avuto, insomma, una serie di notizie importanti, tra cui anche l'avvento dell'ETF e tra un secondo ti spiego anche, insomma, perché l'ETF è così importante e di che cosa si tratta. E quindi il panorama è cambiato letteralmente. Ed è questo uno dei motivi per i quali il 10 avril alle ore 21 andiamo a fare questo evento il più urgente del 2024, il più importante, proprio perché rispetto all'8 novembre in cui c'è stata la profezia, un evento in cui, diciamo, avevo affermato che ci sarebbero stati degli scenari del genere e adesso si sta avverando quella profezia, andiamo a vedere perché questa è l'ultima opportunità storica e siamo nell'ultimo momento più importante per fare dei profitti davvero molto, molto importanti, molto ingenti con il mondo delle criptovalute. Ma vediamo che cos'è un ETF su Bitcoin, perché ci interessa particolarmente. Sarò breve, ma cerco di spiegartelo nel modo più semplice possibile. ETF sta per Exchange Traded Fund. Questo è composto da un'ampia selezione di titoli scelti appositamente per raggiungere l'obiettivo del fondo di investimento. Un ETF solitamente va a replicare la performance di un indice sottostante e offre agli investitori, ai singoli investitori, ai retail, le persone insomma normali, una via semplice di accesso a questa tipologia di investimento. Perché la gestione attiva dei fondi è minima per quanto riguarda gli ETF. Anche le spese e le commissioni possono essere più basse rispetto ai fondi comuni di investimento. Gli ETF su Bitcoin in questo caso seguono quello che è il prezzo di Bitcoin e consentono allo stesso modo agli investitori di accedere a questa criptovaluta senza acquistare o gestire direttamente Bitcoin. Questo in definitiva che cosa ci fa capire? Che ad oggi l'accesso all'investimento in criptovalute non solo è sostenuto appunto dalle banche, dalle istituzioni e quant'altro, ma permette un accesso più semplice, e quindi un'adozione o comunque un'esposizione all'investimento delle persone comuni che è molto più grande e infatti abbiamo visto negli ultimi mesi quello che è successo insomma con il prezzo di Bitcoin che è salito vertiginosamente. Questo grazie appunto all'approvazione dell'ETF, grazie anche all'approvazione dell'ETF. Ecco perché i cicli che verranno non saranno più come quelli scorsi, 2012, 2016 e 2020 e questo proprio perché appunto c'è questo interesse e finalmente diciamo ci sono delle regolamentazioni, ci sono delle un interesse differente da parte delle istituzioni. Quello cui volevo renderti partecipe è che appunto finalmente Bitcoin è una forma ufficiale di investimento e questo è un appunto a suo favore ma allo stesso modo dobbiamo renderci conto che questa è l'ultima grande occasione che non sarà come le prossime volte proprio perché a breve inizieranno ad arrivare quelle che sono delle limitazioni, quelli che sono dei vincoli ed è questo un motivo per il quale è bene approfittarne in questo momento l'ultimo grande evento storico che sta per arrivare nel mondo delle criptovalute. Questo è il motivo per cui devi registrarti immediatamente all'evento della 10 aprile alle ore 21 la resa dei conti perché questo è l'ultimo grande evento storico in cui è possibile fare dei profitti massicci. successivamente a questo evento soltanto chi sarà preparato a dovere continuerà a monetizzare con le criptovalute quindi non perdere tempo e vatti a registrare qui sotto all'evento in cui farò chiarezza in cui andrò a dare delle chicchette davvero molto interessanti delle bombette vere e proprie e delle informazioni che sono del tutto riservate che quindi sono destinate semplicemente a una cerchia ristretta di persone. quindi mi raccomando se vuoi un consiglio per rimanere povero è quello di ascoltare le persone che non sanno fare soldi per questo negli scorsi video ti ho messo insomma allerta anche da quelli che sono i criptoimprovvisati o comunque youtuber dell'ultimo minuto viceversa per monetizzare per fare insomma dei profitti quello che va fatto è dare ascolto a quelli che sono gli esperti del settore qualcuno che ha già fatto dei risultati comprovati alla mano e li ha fatti fare soprattutto a molte altre persone e CP Academy non a caso è una storia di successo ed è appunto l'azienda leader in Italia per quanto riguarda la formazione in criptovalute con tutte quante le metodologie di monetizzazione e l'altro giorno stavo parlando proprio con Antonio R top coach di Crypto Power Academy rispetto a quello che stesse succedendo in questo momento storico per confrontarci ed è anche per questo motivo che all'evento della 10 aprile alle ore 21 andrà a condividere alcune perle di Antonio R per chi non lo conoscesse Antonio R è uno degli insegnanti più richiesti all'interno della CP Academy e questo perché è un trader professionista dal lontano 2017 che si è specializzato nel mercato delle criptovalute dal 2019 si è formato dai massimi esperti a livello mondiale per quanto riguarda il trading infatti è un price action trader dal 2018 è un vero e proprio stratega con dei sistemi collaudati per guadagnare e fare profitti con il trading nel medio e nel breve termine ecco cosa dice uno studente privato di Antonio R Antonio mi ha letteralmente illuminato svelandomi una delle sue strategie migliori e spiegato come applicarla nel mio caso specifico cosa che non mi aspettavo da quel momento i miei rendimenti mensili hanno fatto un per 4 di media rispetto a prima detto in termini pratici se questo studente si portava a casa tipo 2000 euro al mese adesso se ne porta a casa 8 al mese anche solo una strategia o una spiegazione dettagliata di un vero e proprio titano come Antonio R vale come oro colato vedrai sarà entusiasmante come aprire i regali di Natale e non so tu ma io sono davvero molto emozionato è quasi fuori dalla pelle per l'evento del 10 aprile e preparati a prendere tutte quante le ripide d'oro che ti sto per mandare insomma iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva le notifiche per non perderti il prossimo video perché il prossimo video ho una tematica molto molto importante a cui sottoporti quindi ci vediamo al prossimo video come al solito da qui Antonio è tutto to the moon iscriviti al canale